Musica Paolo Monna della sezione di Carovigno, sei il primo campione italiano in questa finale dei campionati italiani Juniors a Roma nella specialità di pistola a 10 metri, come è andata intanto questa gara oggi? Allora oggi è stato un po' difficoltoso riguardo prima ai 60 colpi perché avevo un po' di difficoltà in quanto non riuscivo a vedere bene oppure ero un po' stanco mentalmente in finale invece c'era molta ansia, ero molto preso va, niente quindi è andata un po' così con la gara Però sei comunque soddisfatto del risultato? Sì sì sono molto soddisfatto del risultato Senti Paolo tu sei al tuo secondo anno nella nazionale Junior? Sì E quest'anno è stato un anno particolarmente felice dal punto di vista agonistico perché hai vinto praticamente tutto Sì sì praticamente ho fatto tante gare, sono andate tutte bene quindi sì Di quale conserva il ricordo più bello? Beh sicuramente a Sul le due prove del Coppa del Mondo dove sono andate abbastanza bene entrambe Anche questa è una bella gara, un bel ricordo Anche se ancora non è finita perché c'è un'altra gara giusto? Sì sì domani c'è un'altra gara, c'è la specialità a fuoco 50 metri E vedremo domani come si svolgerà Bocca all'uvo Grazie Crepi